E' entrata nel vivo l'operazione Mare Sicuro da parte della Guardia Costiera. Il comandante del Circo Mare di Sciacca, Giuseppe Giannone, ha evidenziato i contenuti principali dell'ordinanza sulla sicurezza emanata nei giorni scorsi. Ormai con l'avvio dell'assogine estiva è anche iniziata l'operazione Mare Sicuro, che vedrà impiegati donne e uomini del Circo Mare di Sciacca. Sostanzialmente non ci sono variazioni particolari rispetto all'ordinanza dell'anno scorso, la numero 11 del 2019, infatti viene confermata. Ricordo che l'ordinanza si sviluppa su tre principali direttrici. Si sviluppa per quanto riguarda i diportisti, quindi ricordiamo il limite di navigazione che è vietato sotto i 250 metri dalla linea di costa in corrispondenza delle spiagge sabbiose e 150 metri invece dalle coste rocciose a picco sul mare. Questo limite opera nella fascia oraria in cui è riservata alla balneazione, ossia dalle 9 alle 19. L'ordinanza si dedica anche all'utente della spiaggia, all'utente del mare in genere, per cui individua alcune zone in cui è vietata la balneazione, ossia nei corridoi di lancio, e definisce che comunque l'area riservata alla balneazione è dalla linea di costa sino ai 200 metri. Ricordiamo anche che ci sono delle aree che sono state interdette alla balneazione a seguito dell'emanazione dall'autorità sanitaria tramite un'ordinanza sindacale di aree in cui non è consentito appunto per motivi igienici la balneazione. Una stagione balneare, quella di quest'anno, è iniziata in ritardo per le note vicende legate all'emergenza coronavirus, ma non è ancora finita. Si va in spiaggia o per mare, ma è necessario attenersi alle norme anticontagio. Per il Circo Mare di Sciacca l'estate 2020 implicherà anche questa attività di controllo. Nei nostri controlli verranno rimarcate le disposizioni emanate sia dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con delle linee guida pubblicate sul sito istituzionale, che si dedicano ai diportisti in particolar modo. Vanno a disciplinare quali sono i principali comportamenti che devono porre in essere, sia per quanto concerne il noleggio, la locazione o l'utilizzo di una qualsiasi unità da diporto come supporto alle immersioni. O anche in riferimento al diportista, l'utente del mare in genere. Per cui ricordo sempre l'obbligo di non creare degli assembramenti e soprattutto di rispettare il limite di una persona ogni metro lineare dell'imbarcazione che sia. In più vi è l'ordinanza 25 della Regione Siciliana, che stabilisce e dedica, specificatamente per gli stabilimenti balneari, una serie di prescrizioni che riguardano l'area attrezzata, sempre il divieto di creare assembramenti, di permettere all'interno dell'area attrezzata un distanziamento e di garantire una superficie, ad esempio, di 10 metri quadrati per ogni ombrellone che viene piantato nell'area in concessione. Inoltre, sempre queste linee guida dalla Regione Siciliana si dedicano anche all'utente della spiaggia, ricordando l'importanza dell'informazione e della responsabilizzazione individuale, nel mantenere sempre un metro di distanza ed evitare assembramenti. Ricordo infine che per qualsiasi esigenza il numero blu 1530 o il numero unico delle emergenze il 112. Un litorale abbastanza vasto, quello di competenza del Circo Mare di Sciacca, e quindi quanto i uomini e mezzi saranno impegnati quest'estate proprio nell'operazione Mare Sicuro, alla quale lei faceva riferimento? Si avrà un pattugliamento costante della costa, sia tramite le unità a terra che tramite i mezzi nautici, che spiegheranno tutta la forma dei controlli, sia sulle unità di porto che sul litorale in genere, nell'area di competenza che abbraccia ovviamente il comune di Sciacca e quello di Menfi. Le postazioni saranno mobili in modo tale da garantire una copertura su tutta l'area di nostra giurisdizione, appunto sia per verificare il rispetto dell'ordinanza balneare, che per qualsiasi evento di emergenziale poter intervenire quanto prima. Qual è il messaggio che possiamo dare a quanti ovviamente sono già in vacanza, a quanti si appresteranno a farlo nelle prossime settimane? Il messaggio è quello di porre in essere qualsiasi comportamento sempre in modo responsabile, di godere di una bellezza del mare che è fonte di sostegno e va assolutamente riservato in quanto risorsa e di godersi semplicemente l'estate nello spirito più vacanziero possibile. Grazie a tutti.